buonasera a tutti è il 4 di dicembre sono le 18 e 30 in punto come succede spesso quando sono qui a roma la diretta va in orari abbastanza imprevedibili in particolare in questa fase adesso vi spiego subito perché ma come al solito prima di entrare nel vivo della nostra conversazione voglio sempre ricordarvi di condividere per favore pigiando sulla freccetta appunto che vedete lì sotto a destra questa diretta in modo tale da poter salutare ospitare quante più persone possibili e naturalmente poi potete anche se non riuscite a vedere appunto il nostro incontro in diretta ma vedete il video che poi resta sulla pagina facebook e sul canale youtube e sul sito ivanscalfarotto.it nessun problema potete condividere anche quello dicevo che in questi giorni è un po complicato comprendere esattamente che cosa succede a livello parlamentare e quindi anche pianificare le mie dirette perché siamo in una fase nella quale sostanzialmente la legge di bilancio è bloccata in commissione i miei colleghi della commissione bilancio luigi marattin maria lena boschi e gli altri che appunto si alternano a discutere gli emendamenti vi stanno aggiornando via twitter e via facebook la verità al di là del fatto che appunto interessanti importanti emendamenti del pd sono stati respinti e che alcune questioni non sono state accolte dalla maggioranza diciamo senza entrare troppo nei particolari lo faremo quando poi la legge di bilancio arriverà finalmente in aula quello che c'è da dire è che in realtà non si sa esattamente che cosa si stia discutendo perché sapete benissimo che la commissione ha annunciato la procedura di infrazione e quindi ovviamente non si può pensare che quel 2,4 per cento di deficit rispetto al pil possa essere mantenuto perché i messaggi che sono arrivati dalla commissione e soprattutto dei mercati hanno come dire fatto venire a più a divenire più miti consigli il governo e sappiamo appunto che bisognerà scendere al 2,2 al 2 per cento insomma modificare quelli che erano i piani della manovra però questo ancora non succede non si vede gli emendamenti dei relatori che erano attesi in commissione sono hanno tardato tantissimo e per me che non sono in commissione bilancio ed essendo componente della commissione esteri non ho particolarmente diciamo così non sono particolarmente coinvolto nei lavori in questo momento in commissione quindi per noi altri parlamentari che non siamo direttamente dentro la commissione bilancio o non siamo particolarmente stiamo particolarmente a lavorare su specifici emendamenti come per esempio i colleghi della cultura quindi quelli che si occupano di scuola quelli che si occupano di salute quindi altri di agricoltura quindi altri colleghi che hanno a che fare più specificamente con la commissione con la legge di bilancio per noi insomma altri parlamentari meno coinvolti in questo esercizio che attendiamo di andare in aula in realtà tutto risulta un po misterioso e quindi per dirvi io sono tornato ieri sera a roma come succede ogni settimana perché poi normalmente il martedì siamo in aula e invece oggi non c'è stata aula non ci sono state neanche le commissioni perché appunto la commissione bilancio in questa fase assorbe sostanzialmente tutte le energie del parlamento anche domani zero quindi non non si parla di discussione né di votazioni ancora niente quindi con tutta probabilità la legge arriverà in aula giovedì potrebbe esserci la posizione anche questa volta della posizione da parte del governo della questione di fiducia come vi ho già raccontato in un'altra diretta quando il governo pone la questione di fiducia tutte le attività si bloccano per 24 ore questo residuo storico di quando i parlamentari dovevano arrivare da tutta l'italia con calesse quindi bisogna bloccarsi per 24 ore e quindi è probabile che le votazioni comincino venerdì e quindi poi per il fine settimana però non lo sappiamo perché poi alla fine c'è un grande punto interrogativo nel senso che il governo stesso probabilmente non ha chiaro non sa esattamente quello che vuole fare come voi sapete in legge di bilancio non c'è nulla di tutte le cose le promesse fantasmagoriche che sono state fatte e questo chiaramente è elemento di imbarazzo per il governo così quando arriveremo in aula in realtà finalmente sapremo che cosa è successo che cosa sta succedendo e naturalmente io vi aggiornerò però mi sembrava interessante già in questa fase dirvi che la situazione è appunto quella che è una situazione di stallo completo di incertezza di totale nebbia nella quale il governo naviga e purtroppo lo stesso paese si trova in questa situazione infatti io voglio segnalarvi appunto avete visto che i ceti produttivi le imprese anche i sindacati ormai tutti sono addivenuti alla conclusione che le politiche economiche di questo governo e le politiche in generale del governo sono dannose per il paese abbiamo detto già qualche giorno fa che i dati dell'istat hanno riportato dopo 14 trimestri consecutivi abbiamo avuto una crescita del meno 01 quindi dopo 14 trimestri consecutivi in cui il paese è cresciuto siamo tornati a decrescere a tornare siamo tornati a innescare la retromarcia naturalmente di maio ha detto che è colpa del pd ma insomma ormai la prendiamo a ridere perché sembra davvero una barzelletta la verità è che la sfiducia che questo governo con le sue dichiarazioni avventate da parte dei suoi principali esponenti ha creato negli investitori italiani internazionali e negli imprenditori è tale che nessuno si permette di fare un passo diciamo così di assumersi un rischio che è poi come dire in un certo senso è l'essenza stessa dello spirito imprenditoriale assumersi dei rischi ma chi lo fa in una fase così delicata così complessa così incerta nella quale appunto si naviga a vista e non si sa che fine si farà non si sa appunto se ci sarà una procedura di infrazione non si sa se il nostro debito sarà declassato dalle agenzie di rating non sappiamo quanto dovremo pagare di interesse pubblico di interesse sul debito pubblico e quindi quindi quante risorse saranno sottratte alle spese quelle importanti per il paese alla spesa sociale alla spesa per la messa in sicurezza del territorio la spesa per formazione è un sappiamo che una manovra fatta che si basa sulla spesa corrente quindi non su una spesa diciamo per investimenti una spesa che fa ripartire l'economia fa che rifà ricrescere il paese che crea posti di lavoro e quindi tutto questo sta creando una forma di come dire di paralisi il paese è immobile e questo naturalmente è una cosa estremamente grave comunque insomma le cose stanno così si comincia a muovere appunto a notare uno scontento da parte di molti ma io credo che questo sia destinato a crescere a rendersi ancora più evidente che cosa fa quindi il governo per cercare di deviare come si dice con le quali sono le armi di distrazione di massa ma sono naturalmente quella di prendersela con gli immigrati abbiamo visto che abbiamo approvato questa legge che fa vergogna io lo dico sinceramente io non voglio necessariamente dire che il tema dell'immigrazione sia un tema semplice o in un certo senso limitare a dire beh accogliamo tutti apriamo le frontiere buonanotte al secchio è evidente che è un tema epocale di una complessità straordinaria probabilmente il tema principale del mondo come lo conosciamo oggi un mondo globalizzato in cui ci si sposta più facilmente in cui i confini sono diventati più labili non soltanto naturalmente quelli all'interno dell'unione europea ma anche all'esterno dove ci sono guerre che spingono le persone fuori dai loro paesi crisi economiche fame e difficoltà che spingono altre persone fuori da altri paesi e tutto questo si in un certo senso cade sul nostro sul nostro continente e in particolare sul nostro paese per la posizione che ha però tutto viene risolto diciamo dal governo in modo semplicistico con delle misure puramente propagandistiche pensare che abbiamo eliminato i permessi umanitari che sostanzialmente abbiamo tagliato i fondi degli sprar che la gente viene messa sulla strada e tra l'altro senza neanche la possibilità concreta di essere rimpatriata il che provoca naturalmente emarginazione marginalità propensione al crimine quindi quello che si chiamava decreto sicurezza è un decreto che andrà a creare maggiore insicurezza e forse chissà che salvini non lo faccia proprio perché nell'insicurezza lui gode no in un certo senso sulla base sulla sulla percezione del pericolo e della paura la lega su quella roba lì la lega ha costruito il proprio impero elettorale almeno quello percepito quello dichiarato dai sondaggi e oggi tanto per dirne una è successa questa cosa davvero incresciosa del appunto ministro dell'interno che questa mattina ha fatto un tweet rivelando come poi ci ha detto il procuratore capo di torino spataro rivelando un'operazione ancora in corso e mettendo a rischio questa operazione spataro che ha rilasciato una dichiarazione anche molto severa dicendo che appunto le forze di polizia di solito normalmente hanno dei protocolli per cui concordano il modo e la tempistica nella quale dare delle notizie su operazioni in corso e che lo fanno sempre nel rispetto nella dignità degli imputati che comunque va preservata e spataro procuratore a torino punto procuratore capo a torino dice voglio auspicare voglio augurarmi che il ministro degli interni non faccia più una cosa del genere perché mette a rischio appunto anche l'efficacia delle nostre delle nostre azioni e salvini come al solito ha risposto in modo sprezzante dicendo a spataro che se vuole deve andare in pensione strano che non gli abbia detto di fondare un partito di andare a prendersi voti perché questa è di solito la risposta che danno però veramente una cosa grave perché significa che abbiamo una classe dirigente arraffazzonata pressapochista esibizionista che mette se stessa davanti chiaramente davanti al bene del paese perché fare cose di questo genere significa non avere la consapevolezza anche della gravità diciamo della responsabilità che si ricopre del ruolo che si riveste che richiedono una speciale cura e attenzione perché appunto fare il ministro dell'interno di un paese come l'italia non è appunto una cosa da ragazzini e chi si comporta da ragazzino non è all'altezza di quel ruolo avete visto poi adesso questi manifesti che vengono che sono stati prodotti dalla lega per questa manifestazione del 18 con i volti delle persone che non ci saranno appunto fabio fazio asia argento altre bellaura boldrini altre persone e quindi sempre questa personalizzazione questo puntare il dito nei confronti dell'avversario politico sempre con un tono di scherno di derisione di delegittimazione che è davvero fastidioso e che io penso stia facendo degradare la qualità del nostro dibattito pubblico che è davvero diventato un vero problema io ho avuto occasione di parlarne con molte persone negli ultimi tempi recentemente anche nell'ultima trasmissione televisiva nella quale sono stato da da barbara palombelli sapete che si sta discutendo moltissimo sulla vicenda di maio padre di di maio abusivismo edilizio rifiuti lasciati lì nel cantiere e la piscina abusiva i lavoratori in nero e quanto la responsabilità del padre ricada sui figli e a parte il fatto che poi secondo me io penso che di maio abbia responsabilità in proprio perché la domanda è per quale motivo tu sei il prestanome sostanzialmente il titolare di un'azienda nella quale non c'entri niente cioè perché il titolare vero dell'azienda non tiene l'azienda a proprio nome questo non si capisce perché l'abbia data prima la moglie poi i figli ma insomma tu sei l'imprenditore fai l'imprenditore l'azienda è tua assumite le responsabilità in un certo senso è chiaro che se poi tu di maio sei il contitolare dell'azienda possiede il 50 per cento dell'azienda seppure il ministro del lavoro e quell'azienda ha avuto cause per dipendenti assunti in nero non è il problema non è del papà il problema è il suo comunque detto questo facciamo anche che il problema fosse soltanto del papà però è evidente che dopo aver avuto un dibattito politico che per anni si è cibato dei papà di mariana boschi e dei papà di matteo renzi i quali appunto non sono usciti fuori da queste storie puliti tant'è che teziano renzi ha querelato qualcuno che lo ha diciamo paragonato al papà di di maio però tutta questa vicenda sui padri non è che esce adesso improvvisamente come il drago dall'uovo di harry potter e il punto è che noi abbiamo alimentato il dibattito pubblico di questi anni sui padri e sulle responsabilità dei padri che cadevano sui figli presunte responsabilità in ogni caso il tema è che non si può ignorare che questo mostro diciamo l'opinione pubblica si sia cibata di questa roba e che sia stata abituata a cibarsi di questa roba e su questo c'è una responsabilità precisa io credo del movimento 5 stelle che sulla politica della gogna ha costruito a sua volta così come la lega ha costruito il proprio successo sulla politica della paura il movimento 5 stelle ha costruito il proprio successo sulla politica della gogna pubblica e quindi oggi ci troviamo con questa roba qui con un dibattito pubblico e dibattito politico che vi assicuro anche per chi come me ci lavora dentro è difficile da sopportare perché anche chi fa il parlamentare il deputato il senatore vorrebbe occuparsi di cose più serie più concrete più 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 pregnanti no più sostanziali per la vita del paese piuttosto che di quello che alla fine è scandalismo però di questa roba qui siamo vittime perché qualcuno l'ha voluto non è successo per caso e chi lo ha voluto io penso che se ne debba assumere assolutamente le responsabilità io mi fermo qui mi fermerei qui soltanto una cosa voglio dirvi perché sabato diciamo in conclusione non prima di avervi ricordato naturalmente di condividere piggiando sulla freccettina lì sotto in basso a destra sotto la mia faccia non prima di ringraziare ancora una volta marco caberlotto e i componenti del comitato di azione civile di venezia e anche gli altri comitati veneti che erano presenti c'era verona c'era credo belluno c'è un comitato in formazione a treviso ci siamo visti sabato a mestre per una bellissima riunione tra l'altro con uno schema che ho trovato estremamente interessante divertente che voglio suggerire anche agli altri comitati civici di tutta italia e anche voi che mi state ascoltando che magari state formando un comitato lo state facendo poi vi racconto anche come si fa perché appunto marco e i suoi amici tommaso alvise furio che erano lì presenti si sono inventati un formato nel quale hanno invitato praticamente dei degli esperti delle materie di cui ci siamo occupati che erano europa crescita sapere quindi vaccini in particolare e fake news hanno invitato degli esperti i quali però hanno fatto una sorta di gioco cioè hanno sostenuto le tesi contrarie alle nostre per dire c'era al tavolo dei vaccini c'era un pediatra a favore dei vaccini nella vita di tutti i giorni ma che ha fatto finta di essere novax e che quindi ha sostenuto le tesi dei novax e il tavolo che lavorava l'intorno doveva interloquire con lui smontando le argomentazioni novax che appunto per ragioni retoriche questo pediatra portava e tra l'altro essendo un pediatra le conosceva molto profondamente le difendeva con grande con grande efficacia e questo è servito a tutti noi a anche argomentare ad articolare le nostre motivazioni a imparare a difenderle imparare a utilizzare gli argomenti a favore per esempio dei vaccini e credo che sia stato oltre che un incontro estremamente interessante anche una scuola di formazione diciamo una palestra di formazione politica perché ci ha costretti ad argomentare in modo convincente le nostre opinioni e quindi penso che questo formato possa essere poi riutilizzato anche da altri comitati potete farlo anche a casa su un tema soltanto invitando qualcuno che possa appunto fare da contraltare provando a non parlare soltanto tra persone che sono tutte della stessa opinione ma provando a rappresentare le opinioni contrarie in modo tale da imparare a smontarle penso che sia stato molto bello un bel esempio di quello che i comitati possono fare oggi sulla pagina nazionale dei comitati abbiamo messo un decalogo che invece è stato prodotto dal comitato di Imola il comitato civico di azione civile che si occupa proprio di fake news e in quel di Imola hanno fatto un bellissimo decalogo che vi invito ad andare a guardare sulle pagine sulla pagina nazionale sulla pagina dei comitati civici nazionali su facebook molto interessante che può essere rilanciato insomma le cose stanno succedendo i comitati si stanno muovendo sapete che per fondarne uno dovete andare sul sito www comitati ritorno al futuro punto it c'è la pagina crea un comitato bastano cinque persone un promotore quattro aderenti per poter creare il vostro comitato e fare cose così interessanti magari anche ispirandovi all'esperienza di altri sono le vediamo se l'orologio mi aiuta sono le 18 e 49 quindi mi sono allargato tantissimo ben più dei 15 minuti che di solito mi assegno sono quasi 20 quindi mi fermo subito non prima di avervi chiesto ancora una volta di condividere questo video che tra pochi istanti appena finiamo metterò su youtube naturalmente sul sito ivan scalfarotto punto it e sul mio canale youtube ci vediamo spero domani anche se in realtà domani vado a bologna per festeggiare franco grillini che ha ricevuto un'importantissima onorificenza dal comune di bologna il nettuno d'oro credo che si chiami però se non riesco domani proverò dopo domani insomma vi racconterò di come va soprattutto la legge di bilancio che sarà poi il piatto forte dell'attività politico parlamentare delle prossime settimane io saluto tutti ringrazio alberta bruciati per i complimenti che sto guardando in questo momento mi fermo qui e vi auguro un'ottima serata ciao da roma a presto grazie a tutti grazie a tutti